guarda, poverino ancora respira, respira ancora, non è colpa mia eh, ti hanno preso, ma tu insisti eh, provare a riemi essere bocca a bocca, madonna respira respira, adesso si scopre che hai di acqua dolce, no, fino a quando, fino a quando respira sacramento, mettici un po' di sale così fai l'acqua salata, madonna, poverino, non te l'ho preso io, è tutto colpa di Bittorio, ti ha sparato, grazie. Grazie.